E' arrivato il momento, io sono molto contento, sono molto onorato, era il 29 aprile del 1985 un duo, Antonio e Marcello, il 50% si chiama Marcello e sono io, avevano la fortuna e il grande onore di partecipare ad una trasmissione che passerà alla storia, che era Quelli della Notte. Adesso io mi vado a preparare e chiamo subito il signor Renzo Arbore. Ciao Renzo, buonasera, benvenuto a casa Marcello Knight. Ben trovato, come si dice, come dicono le persone educate, ben trovato. Ben trovato, poffarbacco. Poffarbacco, sono contento di passare un piccolo pezzo di venerdì con te, vecchio amico dei tempi del Piano Bar. Ma tanto tu lo sai che io sono più vecchio di te, perché io sono dei tempi del Knight Club e tu sei di quelli del Piano Bar. Tu sei un Nattarolo, Nattarolo. Nattarolo, io sono rimasto uno dei pochi sopravvissuti, sai che siamo rimasti in cinque, credo. E chi siete, scusami? Ebbè, siamo rimasti Peppino Di Capri, Gigi Proietti, che era giovane, quindi non era famoso come me quando facevamo il Knight Club. Poi Andrea Mingardi, che ha scritto un libro a Bologna, faceva il Knight, tutta questa roba qua. qualcuno, Mina, ha fatto il Knight, prima di cantare il suo successo che era il Cielo in una stanza, Arangio Fellone, Ischia, 1958. E poi ci sei rimasto più, purtroppo se ne è andato Fred Bongusto. Fred Bongusto, come no. Capito, e poi se ne sono andati quasi tutti, Fred Buscaglione, Bruno Martino, Marino Marini, tutti i Bambud. Io sto raccogliendo delle cose. Carosone, soprattutto. Carosone, vabbè, Carosone era praticamente una stella, l'ha inventato lui il Knight Club. Come si deve, ecco, faceva tutto con Gigi Di Giacomo. Io, invece, dei pianobaristi viventi, è rimasto, ci siamo io, Antonio. Certo, dove sta Antonio? A Parigi, mi pare. Adesso, credo, sia in Marocco. Ah, è il diavolo di rabbondi. Poi è rimasto Stefano Paladresi. Stefano. Rita Forte. Come, bravissima. C'era qualche altro, quello che stava in Brasile. Lusano Bruno. Bravo, Lusano Bruno. E poi Sergio Camariere, Sergio. Sergio Camariere, che si chiamava Stress. Stress, esatto. E ha suonato anche con me nel programma Il Caso Sanremo. Il Caso Sanremo. Il Caso Sanremo c'era Stress e Tosca. Come no? Nell'orchestrina che si chiamavano i Campagnoli Belli. Tosca si chiamava Tiziana Donati, no? E Sergio si chiamava Stress. Poi c'era Stefano Paladresi e poi c'erano altri musicisti soliti, Alberto Botta, tutti quelli con i quali ancora mi vedo. L'orchestra, però grande, era diretta dal povero Gianfranco Lombardi, che io voglio ricordare. Stiamo parlando di musicisti e quindi della Sirpa e dei Lombardi, quindi un grande musicista, amico, sorprendente. Qual era la canzone ai tuoi tesi? Si può dire ai tuoi tempi? Sì, ai miei tempi, certo. Beh, io ho cominciato... Quella che andava più di moda nel Night. Beh, guarda, era Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Perché io suonavo a Napoli, prima a Napoli suonavo con gli americani, all'USO, United States Organization, Calata San Marco, avevo un gruppo straordinario, molto carino, con il quale facevamo le canzoni americane, soprattutto imbavocciando naturalmente i testi, puoi immaginare. Se vuoi ti racconto una cosa che faccio. Vai, 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 vai. Allora, c'era il mio pianista, Sandro Loveri, che non sapeva l'inglese e non ricordava i titoli delle canzoni. Quindi arrivavano gli americani militari che a richiesta ci davano anche qualche dollaro e quindi facevano la richiesta, facevano All of me, oppure, capito, Buonasera signori, quella roba là, e avevamo detto a Sandro, al pianista, tu devi dire all'americano che ti chiede il pezzo, please sing the melody, canta la melodia, così tu capisci che pezzo è. Quelli arrivavano, sing the melody, e quello diceva, no, 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 sing the melody, ah, All of me, e poi ci facevamo la canzone. Un giorno mi dice, praticamente, Sandro litigava con un nero altissimo che gli chiedeva, lui diceva, sing the melody, e il nero diceva, what's sing the melody, sing the melody, please, what's sing the melody, e si incazzava. Il nero aveva chiesto, where is the restroom, please, dov'è il gabinetto? E lui voleva sing the melody, questo con gli americani, con gli americani, poi dopo sono andato con Mario Perrone, come grande pianista, anche lui di piano bar. Eh, ma era caposcuola del piano bar, il nostro maestro, il primo pianista di piano bar d'Italia, Mario Perrone, gay, sono andato a Capri, a Capri al number two, e quindi lì facevamo tutto il repertorio, come tu sai, noi del night dovevamo fare tutto il repertorio, quello che chiamavamo cubano, che poi era messicano, quasi tutto, sia lì Tolindo, solamente una festa, eh, Cucu Cucu Paloma, eccetera. Facevamo poi tutto il repertorio italiano, Modugno, Quartetto Cetra, anche Vecchia America, cosa succede, poi facevamo tutto il repertorio napoletano, eh, di, quel repertorio napoletano da ballare. Quale? Beh, c'era allora la, si è dimenticata completamente, a Napoli c'era la Nobel bug della canzone napoletana, era cominciata con un pezzo di Ettore Lombardi che si chiamava Suspiranno Mon Amour, tutta vicina Suspiranno Mon Amour, et ton catena, so gore mio, eh, era bellissimo. Poi nacque con quindi altre canzoni di questo tipo, eh, tra le quali poi A Carezza, Mecose, Meravigliose, Eh, La Piante Stelle, eh, insomma, ognuno faceva, erano ballad, eh, i, i napoletane che avevano, eh, ispirate un po' alle ballad americane, Anime Core era la capacità. No, come no, certo. E ecco, poi però tutti... Erano cambiati anche gli accordi, no? Le armonie completamente. Sì, 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 certo, certo. E quindi noi facevamo le canzoni napoletane di questo tipo, a straniera. Le davanti a così, il sole è sincera, canto per te stasera sotto a luna, tu non mi puoi capire, tu sei straniera, ma bella gomma a te, non c'è nessuno. Questa la cantava... Che meraviglia! La cantava Rino Sentieri, pensa tu. Perché tutti, anche i genovesi, si erano adattati a fare le ballad della Novelle Vague. Prima o poi si dovrebbe fare un programma, ricordando questo periodo bellissimo. Poi naturalmente arrivò il Napoletan Power e quindi fu cancellata la Novelle Vague della canzone napoletana, con Un'ora sola ti vorrei, degli Showman. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai. Tu sai che c'era la versione After Midnight di questa? No, qual'era? Le battute del Nightclub, sono le battute, tu sei collezionista di battute del Nightclub. Un'ora sola ti vorrei per farne 4, 5 o 6. Dopo mezzanotte si potevano, come dire, cantare le canzoni spinte per il pubblico sopravvissuto che ballava la mattonella. Femmina, tu sei una mala femmina. Chi storia, fatti gli anni, le lacrime infamità. No, c'erano tutte le rime. Lo so che vuoi milioni, attaccate a st'illusione che non ti voglio dare. Per te divento pazzo. Tu prendi questo mazzo di bei, vermigli, fiori. Io so tutte le canzoni. Le canzoni dopo la mezzanotte che si potevano. Con i doppi sensi, le cose così. Ai romani piaceva la figa, no, ai romani piaceva la biga. La vera, la biga. La cantava un grande animatore dei Nightclub di allora defunto. Uno dei primi a cantare queste canzoni. Si chiamava Totò Ruta, napoletano emigrato a Milano. Vabbè, stiamo facendo la storia del Nightclub. Che meraviglia, che meraviglia. Eh, lo so, lo so, lo so. Vabbè, ma anche voi facevate le canzoni di doppi sensi. Noi facevamo anche le canzoni. Cioè, assolutamente. A voglia, a voglia. Noi eravamo proprio un doppio senso vivente. Eh, vivente. Poi c'era Antonio, Antonio, che è... Aspetta, che bevo pure io. Antonio... Antonio faceva le pernacchie. Ah, sì, sì. Non ci sa perché. Anche i clienti più importanti, più famosi, come entrano... Eh, sì. Beh, c'erano le canzoni che si... Prendi questa mano, zingaro. E ti ricordi, l'abbiamo fatta anche... Pure a quelli della notte. Eh... Prendi questa mano, zingaro. Quella era la pausa proprio perfetta. Anzi, tu hai detto a quelli della notte che prima erano nate le pernacchie e poi intorno era stata costruita la canzone. Sì, effettivamente. Beh, c'erano delle... Vabbè, vabbè, io ho fatto poi in un film il papocchio, ho fatto azzurro, ho fatto tutto di pernacchie, non so se ti ricordi. Me lo ricordo perfettamente. Eh, quello fu una cosa scandalosa. Io credo che Paolo Conte mi abbia tolto il saluto. No, il saluto no, perché adesso siamo amici, abbiamo fatto l'ospitale, però non ha mai parlato. Di questa cosa qua non ha mai parlato. Di questa versione di azzurro fatta dal coro di pernacchie, meraviglioso. Scusami, Renzo, ma pernacchia o pernacchio? Beh, questa era pernacchia. Pernacchia, lo sai benissimo anche tutta la distinzione delle pernacchie, no? L'offa, cata l'offa, pernacchia. Vabbè, a quest'ora sul Marcello... Possiamo dire quello che vogliamo. Vabbè, vabbè, pernacchia la cosa, poi c'era Pietro, Pietro Sanguigno. Tutti i tipi di... E questa cosa, eccetera. E tu sai come mi viene idea nel film di fare il coro di pernacchie, no? Perché ad alto gradimento con Gianni a un certo punto io feci una canzone, non mi ricordo quale, insomma, adattando... E naturalmente feci per la prima volta in radio una grandissima pernacchia con Bracardi. Allora il direttore della radio ci chiamò al rapporto e mi disse... E io capisco che voi... Ma noi l'abbiamo fatta per aumentare l'ascolto, perché sa com'è, eccetera. E voglio vedere se per aumentare l'ascolto sarebbe bellissimo anche un coro di pernacchie, disse lui, il direttore della radio. Io memorizzai e nel film feci il coro di pernacchie, il papocchio. È rimasto storico. Ma senti una cosa, ma secondo te in quel periodo eravamo più liberi o no? Artisticamente dico. Ci divertivamo, guarda, per pochissime lire, per pochissime cose, si faceva tardi la notte, si beveva, perché il proprietario del night ti offriva il whisky per scaldarti, per farti essere più brillante, e quindi si sbevucchiava un whisky, vabbè, per quelli finti, insomma, in acquato. Noi bevevamo il prosecco fatto con le bustine. Eh, voi, perché è una generazione, noi andavamo proprio whisky americano finto, quello di forcella, era una cosa che ti guagliava lo stomaco. Però, insomma, si faceva questa cosa. Poi, naturalmente, c'era Sergio, che faceva anche il night con me, e poi l'abbiamo fatto a Sorrento, alle Arcidie, a Marina D'Egua. Nando Mugolo, quello che poi ha fatto il notaio, con me indietro tutta e anche altri ruoli. Nando. Nando aveva anche lui questa capacità di dire delle parolacce, o delle parole insolite, durante le canzoni. Naturalmente i ballerini si voltavano, diciamo, abbiamo capito bene, perché quello diceva... Cioè, non ho capito come faceva. Eh, eh, come faceva. Eh, che... E lui cantava, non so, ci compreremo una nuvola in cielo per festeggiare la luna di me, tirando le comete per il culo, ci crederemo... Allora, noi lo sgridavamo, io guardavamo, io ero arrossivo, diventavo pazzo. Mi avevo messo un paio di occhiali di cui non avevo bisogno perché mi vergognavo. E lui aveva la faccia di tolla, guardava il pubblico come se avesse cantato, tirando le comete per la coda, che il testo era vero, tirando le comete per la coda. Lui diceva, sempre benvenuto. Quindi, noi ci siamo divertiti tantissimo, certo, facendo il night, perché dovevamo ammazzare la fatica, perché si lavorava, tu lo sai, dalle 10 alle 3 di notte, ininterrottamente. 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 C'era il tempo per riposarsi, uno di noi si riposava, andava al bar, aveva questo whisky, e gli altri funzionavano il suo strumento, cantavano le canzoni. E vabbè, insomma, questa è la vita del night club. Ti voglio chiedere una cosa, Renzo, tu hai scoperto un sacco di talenti, anche discograficamente, molti sono nati perché tu decidevi, magari loro ti mandavano il disco, la facciata allora, tu invece capivi che non era quella la canzone, cambiavi, rigirai la pizzoca. E cambiavo, c'è questo. L'ho fatto molte volte. Qual è stata la cosa più eclatante della canzone più eclatante che loro ti hanno... Tornavo in un night a Sorrento, al circolo dei forestieri. Io sentì questa canzone, a chi? Telefonai al direttore della casa discografica della Rifi e dissi voi siete matti se non fate uscire questo pezzo a 45 giri di Fausto Leale. E quello mi disse ma lei lo lancerebbe se lo facciamo uscire a 45 giri? Dice come no, lo metto per voi giovani facevo e così io feci fare, uscì, c'ho ancora il telegramma di Fausto grazie a te esce a 45 giri a chi? E ha venduto un milione di copie e c'è. Ma poi ho fatto molte altre cose per esempio Rossano che ha fatto Ti voglio tanto bene cara ti voglio tanto bene era uno un cantante allora sconosciuto gli ho fatto cantare questa vecchia canzone Soleado cambiavo le capito? Era il retro di esatto se vuoi sapere la verità io noi facevamo veramente DJ quindi anche se la canzone non ci piaceva o non era del nostro genere sentivamo l'odore del successo quindi Soleado che era distante dai tuoi gusti ecco di quello là era una cantilena una cosa per me insopportabile però io dissi guarda Gianni questo è un successo sicuro costa ripetizione e infatti fu un grande successo poi un'altra che insomma non era il genere nostro a bandiera gialla a bandiera gialla avevo un cuore che temava tanto di Mino Reitano Mino era un bravissimo ragazzo non era certamente beat però era un bravissimo musicista suonava il violino era tenero aveva bisogno di essere aiutato allora io dissi a Gianni guarda si ha fatto sta canzone non è adatta non è beat non è aveva un cuore che temava tanto però sarà certamente un successo fu un successo strepitoso il biglietto da visita di Mino Reitano così significava fare i DJ come abbiamo fatto se tu oggi dovessi fare una previsione su questa su questa diciamo nuova tendenza nuova oramai non più rapper eccetera eccetera su chi punteresti? sì credo Achille Lauro Calcutta poi ci sono quelli che ci mettono un po' di ironia anche ce ne sono tante io il criterio mio è quello di dire queste canzoni resistono al tempo o sono caduche cioè passano e vanno o sono soltanto una moto tu sai che nel corso di tanti anni abbiamo visto canzoni che avevano un grandissimo successo e poi sono dimenticate sono rimaste solo nella memoria di quella generazione mentre ci sono canzonette anche minori capito e che invece sono rimaste nella memoria della gente misteriosamente perché avevano un'intuizione capito lo sai che i papà ho anche canzoni bellissime come se domani sono ancora un classico meraviglioso della musica italiana bellissima ma tu stai facendo qualcosa con uno di questi ragazzi io c'ho un canale renzoarborichannel.tv dove metto dei talenti in una cosa che si chiama renzo talent però adesso sto curando soprattutto le risate ho fatto un grande successo durante la quarantena con 50 sorrisi da Napoli ogni giorno mettevo un sketch di amici napoletani o di non amici ma insomma adesso sto razzolando sempre sul sorriso e poi sulle canzoni però a me piace nel mio channel mettere quello che non si sente abitualmente quindi più che i nuovi talenti per ragazzi perché a me piace far riscoprire Diego La Cicala lo conosci Diego La Cicala? Devo dire la verità no Allora vattela a cercare Diego La Cicala Diego La Cicala prendi fai Lagrimas Negras Lagrimas Negra e se non piangi non sei più un musicista Diego La Cicala che canta Lagrimas Negras con un grande pianista questi sono quelli che piacciono a me capito quelli vado razzolando quelli di Capoverde capito quelli tutta la musica inconsueta è stata sempre la tua forza però questo cioè di prendere ma sì non voglio fare quello che fanno tutti perché sennò va bene ma anche nella televisione hai fatto questo a proposito ma ritorni ritorni ti va di ritornare ancora guarda dovrei fare un programma dedicato ai cent'anni di Carosone vediamo se me lo fanno fare dedicato ai cent'anni di Carosone dovevo fare un altro programma insomma ho delle idee grazie a Dio però questa Rai pensa pensa che io abbia 80 anni ma come si permettono come si permettono ma io non l'ho capito e non lo so e allora dice quello è fuori combattimento perché se vedessero il Marcello Knight show capirebbero che gli incoglionito non sono ancora sono loro se tra pochi mesi probabilmente vabbè loro lo pensano però come noi alla loro età pensavamo che quelli che avevano compiuto 80 anni erano fuori del combattimento io grazie a Dio non sono fuori del combattimento assolutamente no c'è sempre una ventata sempre di novità di freschezza non ho tirato i remi in barca come si dice col doppio senso dei musicisti non ho tirato il remu in barca senti io sono felicissimo lo sai che questa notte non ho dormito pigliate la pastiglia pigliate la pastiglia e beh pigliate la pastiglia tu cammini ogni notte tu cammini spagliando tu non direi mai il suono non chiudi mai gli occhi e non bevi caffè vabbè vabbè allora io ti ringrazio tantissimo pensa che adesso in chiusura lancerò un filmato di una mia interpretazione di azzurro fatto come se azzurro la struttura invece armonica fosse quella di di Paolo Conti di vieni via con me di via via ah bella quindi è venuta fuori un mashup un mesca francesca molto molto quindi l'hai fatta a tempo di swing a tempo di swing esatto come piace a noi solo per concludere solo per concludere la nostra carrellata sulla musica naturalmente io accanto alla canzone umoristica con il slainetto nell'86 al festival di Sanremo che ho riscoperto perché non c'era più canzone umoristica accanto alla canzone napoletana che ho riscoperto perché non gli stessi napoletani pensavano che fossero canzoni superate esatto e il prossimo anno la mia orchestra fa 30 anni però io nel 2001 ho riscoperto lo swing con i miei swing maniacs e tutti i musicisti straordinari dopo è arrivato naturalmente Michael Bublet Diana Krall eccetera e adesso sono molto appassionato dei ragazzi che fanno swing sono bravissimi sulla rete potete andarli a trovare cercate swing cercate Boogie Allen Boogie Allen Boogie Allen è un caposcuola che tiene sotto controllo tutte le scuole di swing in Italia e quindi è una cosa interessante perché ci sono questi ragazzi ventenni trentenni che ballano quello che ballavo io quando arrivarono gli americani e dicevano com'era il fatto di farti sentire la melodia senti che tieni in mano uno zufolo sto studiando il clarinetti in onora a te bravo bravo ho capito che hai già un bel suono hai fatto il registro basso buono grazie ti voglio tanto bene grazie Renzo ciao Marcello saluta tutti i compagni della musica i musicanti come noi che non si pigliano sul serio però poi fanno musica che rimane nel cuore della gente ti salutano Nello Pepa Alberto Trabucco Fabrizio Failla ti saluta e ti saluta Massimo Cinque che tu conosci e come no perfetto e quei musicisti che verranno da te ricordati hai chiamato Stefano Paladrezzi sì come no già l'abbiamo fatto il collega eh vabbè adesso sta lavorando a Rai International vabbò un abbraccio grazie abbraccio a tutti voi che ci avete ascoltato in questa carrellata di vecchi musicanti grazie ciao da Renzo Arbre grazie ciao Marcello ciao grazie ciao ciao grazie a tutti